Rapinatori in azione a Nuoro, nel merino dei malviventi, l'ufficio postale di Viaichinusa, due banditi e travisati armati sono entrati nell'ufficio postale attorno alle 12.30. Sotto la minaccia delle armi sono fatti consegnare dagli impiegati i soldi presenti nella cassa e quindi sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. Scatato l'allarme, sul posto ci sono recati gli agenti della squadra volante della Questura e carabinieri del comando provinciale di Nuoro. In corso di quantificazione il bottino. In città è scattato il piano antirapina e le forze dell'ordine sono alla caccia dei malviventi. Invece ammonterebbe a 10.000 euro il bottino della rapina messa a segno stamattina, poco dopo alle 8, nell'ufficio postale di Brunella, frazione Torpè. Anche in questo caso due uomini mascherati e armati di pistola hanno fatto irruzione al locale e sono fatti consegnare i soldi presenti nella cassa. Scatato l'allarme, sul posto ci sono recati gli agenti del commissariato di Siniscola. Anche in questo caso è stato attivato il piano antirapina, ma per ora dei malviventi non c'è traccia. Grazie.